Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avete letto dal titolo Sugarelli a Metal Quest'oggi vi vado a raccontare una storia di quasi un anno fa Un po' vecchiotta, sì ma Comunque bella storia che vi avevo già promesso E che sono riuscito a recuperare fortunatamente In questo video vi farò vedere come prendere i sugarelli a Metal E soprattutto una bella serata in compagnia di amici Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Superiamo i 100 like per questo video E uscirà un video veramente pazzesco prossimamente Sempre del genere Sempre cercando i sugarelli a Metal Però con molte molte sorprese E veramente delle cose pazzesche Quindi per far uscire quel video il prima possibile Superiamo i 100 like per questo video E non fate quelli con le braccine corte Dai è solo un click E non ci vuole niente Ed è gratis Dunque direi che abbiamo perso già troppo tempo E via con il video Nel video Mi ha aiutato, morti in sabbia Infatti mi ispirava il mio amico Che è fondamentale E si? Morti la sabbia, si Perché loro quando vedono una che è gruffola Gli vanno in parte E gruffolano insieme Guardate qua sotto Guardate qua Cosa? Sul fondo E il mormore Guardate Guardate qua Guardate qua che girano Due Eh si vai 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 tira 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 ma sono mormore orate si si sono mormore si si sono avvicinato mi ha ammasso troppo so che è bello vedere il mare piatto e tutto ma non funziona così il pesce è incantato sulle secche fuori ecco che mi ha dato un pesce eccolo la traccina è la traccina guarda c'erano altre due dietro ecco dov'è che punge hai visto l'ago nero che tira si ho visto che è una roba scura fa male se ti tocca è come una vespa però se ti punge di più che paura a spingere di più fa molto male se ti vai sopra con il piede il piede diventa il doppio dell'alto perché ti incastri e lui spinge un sacco di veleno esatto pezzarola devi ne sapessi e quelli ne fai tantissimi se ne sono andati quando lui mi ha scritto prima il mare è piatto ho detto ah beh guardale qua guardale qua le orattine luci adesso io non sto andando perché fa troppo caldo sono andato direttamente l'alto bravissimo adesso l'anno è una torna buona a settembre sono fantastico bravo si noi siamo andati un po' di acqua con la pioggia noi siamo andati con la pioggia fai te oh è stato da un cefaletto dai preparati l'armatura pesante è stato divertente che si fosse attaccato l'orata e via adesso sto prendendo qua ti diverte queste gomme perché poi i sugarelli stanno se ne sono visti pochissime le mormore fra un po' non le prendi sui queste tira un po' di più eh non so sta andando tutto di là si si è una mormora è una mormora bravissima calma 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 si si è una mormora è mormora bella anche vai 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 vieni qua c'è l'italia hai visto? ho detto l'erico io anche ci sono andato e mi diverto anche devi saper azzeccare zona, profondità ah no sugarelli 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 esca davanti guarda il brancoli sugarelli esca davanti in fondo buttagli lei va salita avanti cosa è questa roba che si è fatta i cefali 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 no questi sono cefali i sugarelli sono già andati ma lanciali che se loro intercettano le scape madonna subito ma cosa sono i sugarelli? tipo sgombri dove sono andati? sono andati per di là dove hai tirato quindi? stai su dal fondo con i sugarelli si si no ma erano tanto bassi loro ma loro vengono su? che cazzo ho preso? un sacchetto no ma non combatte niente granchio granchio? davvero? si bravissimo madonna che branco di sugarelli erano tutti piccoli però erano 15 erano due al centro che si vabbè due due no no vuoi che ti fosse solo una rama questa è sta roba qua? un cefalo aspetta 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 vai 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 no che bastarde bastarde si per esempio io non riesco più ad andare a Lucio no ma io non ci riuscirei neanche no a Lucio è impossibile no no l'ho fatto cioè si ma quando ti abito al casting eh cioè io io Lucio o Esc che vado dai 60 ai 100 grammi poi vai meglio anche a recuperare e a gestire le Esc poi io ho le spalle distrutte e con il casting mi posso lanciare senza muovere la spalla praticamente vedo solo il polso che mi ha problemi ho praticamente tutte le due spalle degenerate mi ha portato via la carne quindi non è la polva una morma una bella no porca trovi mangiata mi ha portato via la carne non ho più niente qua io vai vai te l'ha tagliato guarda guarda che io lavoro una più grande che ho fatto che ho un chilo e cento un chilo e cento? cioè pesce così un chilo e cento? da record praticamente pochissime erano fuori di quella taglia e l'ho presa da barca pescando con la Bolognese a galleggio intanto che scarozzavo a fondo vai ancora eh c'è il branco ha mangiato sia da te che da lui io ho sentito una paga tremenda me l'ha dato ton ton doppia non dagli al primo ton ton guarda che posega eh ma mi viene...sì perché probabilmente sono in frega tipo e quindi c'erano tutti i maschi c'erano tutti i maschi che va dietro eh mi tira il verme devo tirarlo un po' probabilmente perché gli arriva corto però c'è 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 eh sotto non sono tanti fuori sono a quella distanza la più o meno ah si? si sono la più o meno sono corte a che lavoro fai tu? io li ho fatti a sabichi l'anno scorso ne facevamo 40 a sera come a casa vanno recuperati allora che hai preso una roba suro povero adesso io mi sono buttato a micro giga infatti po' il giga? si guarda che se arrivasse sul branco adesso ne facciamo tipo 50 un sacco fai riguardo sugarello sugarello ma diventano anche così per me anche così perché tanta gente da fuori che tante volte non ha rispetto qua per me è il mio mare è ovvio è come quando uno si trova ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho la è la morbola quella? no no sugarello ho messo il micro giga guarda guarda opla bravo sugarello o ne è venuto indietro uno no tu hai la canna a volo? no è che l'ho appoggiata sugarello ancora opla altro furo io vorrei andarci io ho possedato il fiume che mettono i cogli di salmone no 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 yuko yuko salmone europeo no? eh lo chiamano salmone europeo non lo vai yuko yuko ah no salmone della nube oh oh ce l'ho ce l'ho ce l'ho sul fondo sono sempre giga? si no forse l'ho perso no no ce l'ho ancora sul fondo sugarello occhio che si slamano opla vi stare attento che si slamano facilmente perché hanno il labbro morbido guarda l'ho preso addirittura con doppia eccolo qua eccolo la double strike metti senti 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 che grunisce ehi che botta questo è arrivato il Serra e ho scritto guarda che roba guarda che la tua mamma la foto in sbaglia ecco qua ho preso qualcosa sicuro recupera 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 ma secondo me si veloce veloce perchè sennò moslami tieni sempre in tensione la lenza vai è vero? 7 grammi ancoretta e amo assist questa foto da me colorazione rosa no schiena rosa e gialla e corpo grigio con bande se bene ce l'ho e si si no tracina guarda che puoi armi tracina oh ce l'ho ce l'ho bello si adesso un micro jig hai smesso te si si the sweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating kryptonite desires set my heart on fire heart on fire